e gli interessi dei suoi cittadini. Grazie per la vostra attenzione e attendo con interesse di seguire la discussione. Grazie, Commissario. A facoltà adesso l'On. Venta per un minuto. Grazie, Presidente. Commissario, nonostante il fatto che il Sudan del Sud abbia molte risorse naturali. Il più giovane Stato del mondo sta facendo fronte ad una sempre crescente stabilità nella crisi umanitaria. L'ex Presidente ha trasformato questo Paese in un Paese che sprofonda in una guerra sanguinosa. Molti cittadini sono fuggiti verso i Paesi limitrofi e questo Paese adesso è tra i più minacciati nella crisi umanitaria. Ecco perché plado le sue parole sull'assistenza a questo Paese. Spero che questa venga erogata rapidamente perché altrimenti avremo un altro disastro umanitario. Dobbiamo muovere dei passi con urgenza per il rispetto del C'è stato il fuoco, seguito da consultazioni politiche con l'aiuto dell'Unione africana ma anche con l'assistenza dell'Unione europea per poter aiutare il processo di pace in questo Paese. Grazie. Onorevole Kienge, un minuto e mezzo. Sì. Quattro anni di guerra civile. Grazie. Quattro anni di guerra civile, decine di migliaia di vittime, tre milioni di sfollati, violenze a sfondo etnico, un genocidio imminente, torture, omicidi, soldati bambini, superi di gruppo, le atrocità si moltiplicano. Io condanno l'interesse totale della comunità internazionale a fronte della situazione catastrofica del Sudan del Sud, come dimostra la reazione di una risurrezione che imponeva un imbargo sulle armi e delle sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU. È assolutamente aberrante. Da parecchie settimane le organizzazioni umanitarie e gli esperti dell'ONU hanno lanciato l'allarme sulla situazione di pulizia etnica che è in corso da dicembre in varie regioni del Paese. I caschi blu non riescono più a garantire la sicurezza della popolazione e devono ritirarsi. È una situazione di diritti umani tra le più tremende del mondo. Io chiamo i responsabili politici e le loro responsabilità, sia l'ex Presidente che il Presidente attuale, che devono proteggere la loro popolazione. Sono tutti responsabili di enormi atrocità e di massacri. Bisogna avviare un percorso di dialogo per mettere in atto il gestato del fuoco e l'accordo di pace. Commissario, le chiedo cosa può fare l'Unione Europea con tutti gli strumenti diplomatici in vista dell'adesione all'accordo di Cotonou per porre fine al conflitto e alle violazioni dei diritti umani nel Sudan del Sud. Grazie. Io sono un entusiastico sostenitore dell'indipendenza del Sudan del Sud, quindi è molto triste per me dire che non c'è nulla da celebrare nella storia dell'indipendenza del Sudan del Sud. C'è ancora una guerra civile, molte atrocità sono state commesse sin dal 2013. Io applaudo all'appello comune dell'Unione Africana, dell'ONU e di altri per la cessazione delle osterità. È incoraggiante a vedere che Raid Machar ha seguito questo appello, ma si continua a lottare. Il re del Marocco oggi è in visita ufficiale al Sudan del Sud. Dopo l'Unione Europea sta riducendo la sua assistenza, ma quella dell'Unione Africana sta aumentando. Mi è stata fatta poi una promessa dal leader dell'indipendenza del Sudan del Sud per il riconoscimento del Somaliland. Noi speriamo che adesso il dialogo nazionale con il Presidente transitorio possa vedere un periodo migliore per la popolazione con l'utilizzo delle abbondanti risorse naturali. Grazie, onorevole Schak. Grazie, Presidente. Commissario, avete parlato delle immense sfide, della necessità di porre fine alle enormi sofferenze del popolo del Sudan del Sud. Nel frattempo il Commissariato per i diritti umani dell'ONU ha lanciato un monito. Siamo sull'orlo di un genocidio. Lotte fra le milizie, stupri di massa stanno portando a una pulizia etnica. La gravità di questi crimini di inaudita violenza. Bisogna porre fine all'impunità dei colpevoli. Oltre a queste atrocità vediamo anche un giro di vite sulla società civile e sui mezzi di informazione, impedendo la documentazione e la trasparenza. Quindi è urgente agire adesso come Unione Europea nel contesto della cooperazione con l'Unione Africana e con le Nazioni Unite. Dobbiamo ricordare che già centinaia di migliaia di persone sono state uccise dal 2013. Oltre 3 milioni di persone sono sfollate e adesso sono a rischio di fame. Adesso è stato avviato un processo di pace e il circolo vizioso di violenza, vendetta, violenza, vendetta deve finire. C'è un embargo sulle armi, ma ci deve essere anche un embargo sull'esportazione di dispositivi di rilevamento delle persone. Troppe sono le esportazioni anche verso il Sudan del Sud. Dobbiamo garantire responsabilità. L'Unione Europea deve assumere un ruolo di leadership in questo terribile conflitto. Il caso del Sudan del Sud non è l'unico nell'Africa di oggi. La strategia di dominazione dei popoli e rapina delle loro ricchezze fomenta guerre e i grandi Stati intervengono se necessario militarmente come Libia e Mali. La situazione attuale non può essere slegata dal processo avviato dagli Stati Uniti, l'Unione Europea e i loro alleati che hanno approfittato di differenze interne e di etniche e di povertà per alimentare un prolungato conflitto che poi nel 2011 è culminato nell'indipendenza in un processo simile a quello del Kosovo. Il tutto per il controllo geostrategico e lo sfruttamento delle riserve di minerarie e di petrolio del Sud che orientano gli interessi nella regione. Ci vuole un cessato del fuoco e mettere fine alla vendita di armi alle varie parti belligeranti. Ci vuole una soluzione pacifica e politica a questo conflitto libera da qualsiasi ingerenza militare esterna. Grazie onorevole Borghezio Minuto. Le popolazioni del sud del Sudan è drammatica. Su circa 12 milioni di abitanti, 4,5 combattono tutti i giorni contro la fame, 2 milioni sono profughi interni e oltre 1,3 milioni sono rifugiati nei paesi confinanti in primis Luganda. Nel recente passato una certa vulgata ci ha descritto il successo dell'autodeterminazione, il superamento dei vecchi assetti coloniali e creazione di un governo in unità nazionale. Un quadro ottimistico, ma la realtà ha smentito questi fragili assetti, perché nonostante negli anni vi sia stata una massiccia iniezione di risorse per aiuti allo sviluppo e alla creazione di un sistema amministrativo, i rappresentanti delle due principali fazioni, il Presidente Chir e il Vice Presidente Mahar, hanno rotto la coabitazione governativa spinti da antiche spaccature etniche accentuate dagli interessi petroliferi in gioco. La missione ONU si è rivelata impotente nel ristabilire lo Stato di diritto ed è unicamente riuscita a creare dei siti per la protezione dei civili che fungono le violenze, mentre la forza di protezione regionale autorizzata dal Consiglio di Sicurezza è ancora lontana dal concretizzarsi. Ad oggi si fa più concreto lo spettro di una nuova Rwanda. No, ho un minuto e mezzo, Presidente. Per evitare questa tragica eventualità non bastano le iniziative umanitarie dell'ONU e quelle di singoli paesi come l'Uganda e l'Uganda. Grazie mille, signor Kukan. No, ho solo un minuto, è un errore. Ho un minuto e mezzo. Mi scuso, questa è la mia lista. È un problema di comunicazione. Mi dispiace ma adesso devo concludere. Onorevole Kukan, un minuto. Grazie, Presidente. Buonasera, Commissario. La situazione nel Sud si è deteriorata significativamente negli scorsi mesi. Distruzione, violenza, stupri di massa, fame, la popolazione che fugge dal Paese. Ci vuole una soluzione politica alla guerra civile, che significa che bisogna fare passi in avanti sul dialogo nazionale e tornare all'accordo del 2015. L'Unione Europea dovrebbe contribuire al processo di pace nel Sudan del Sud, soprattutto nel campo della giustizia, in cui la nostra assistenza può essere fondamentale. Pertanto vorrei sostenere l'appello della Vicepresidente e del rappresentante per la creazione di un tribunale ibrido che avrebbe giurisdizione per l'elettrocità commesse. Ecco perché la nostra influenza politica e diplomatica può portare a dei risultati tangibili per la popolazione del Sudan del Sud, che merita molto di più di quello che sta offrendo attualmente loro la comunità internazionale. Grazie. Onorevole Guerrero, un minuto e mezzo. Grazie Presidente. Signor Commissario, la crisi del Sudan del Sud è una delle crisi che appaiono, scompaiono nei mezzi di comunicazione, che però ci accompagna da circa 40 anni. Ogni tipo di guerra distruttiva per ragioni etniche, religiose o di lotte per le risorse naturali. È un Paese relativamente giovane, ma la sua popolazione ha vissuto questi decenni di guerra in tutta la Regione. Vorrei segnalare che questo è il momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni per appoggiare chi ha dovuto affrontare un vero e proprio esodo, lasciando il territorio del Sudan del Sud arrivando nei Paesi limitrofi. Queste persone necessitano di aiuti umanitarie. Praticamente tutta la popolazione del Paese, il 30% del fondo fiduciario per l'Africa deve essere utilizzato per l'assistenza umanitaria nel continente. Dobbiamo garantire alloggi, generi alimentari, assistenza sanitaria agli sfollati e anche aiuti finanziari. Ma soprattutto vorrei sottolineare qualcosa che diceva il Commissario. Dobbiamo essere attivi non soltanto come testimoni, ma anche come attori principali nel garantire il processo di pace. Dobbiamo essere più attivi nel difendere l'embargo sulle armi e dobbiamo essere più attivi anche nel perseguire coloro i quali stanno impedendo l'imposizione della pace nel Paese. Grazie, Presidente. Proprio una settimana fa, nella stampa olandese, è stato pubblicato un articolo impressionante su un istituto per bambini nella città di Juba. Il titolo diceva che le persone si buttavano a terra, chiudevano gli occhi e pregavano. Questo descrive la situazione nel Sudan del Sud. Questi bambini hanno imparato una lezione molto importante, cioè chi appartiene a quale fazione, si chiedono i bambini soldati. No, siamo tutti sudsudanesi. Signor Presidente, il futuro di questi bambini di strada si preannuncia a cupo se l'Unione Africana e l'ONU non impediscono un genocidio. Entrambe le organizzazioni recentemente hanno suonato un campanello d'allarme per un intervento internazionale. Io vorrei sottolineato perché le cose vanno veramente male. Presidente, Commissario, colleghi, il processo di pace è molto lungo in Sudan del Sud. C'erano voluti 40 anni per liberare i cristiani del Sudan del Sud dal regime di Khartoum. Io all'epoca vivevo nel Sudan del Sud. Ho osservato una combinazione di guerra e fame che si è evoluta in una crisi umanitaria con 300 mila morti e più di un milione di profughi. La parte cristiana del Sudan poi è diventata indipendente. Immediatamente nel 2013 scoppiò una nuova guerra, questa volta tra i sudsudanesi. Il regime di Khartoum non ha mai accettato la perdita del Sudan del Sud, il che è dimostrato dai sempre più numerosi attacchi contro i cristiani. Vi ricordo che alla fine di gennaio un cittadino cieco, un missionario cristiano, Pietro Iacek, assieme a due preti sudanesi sono stati condannati a vent'anni di prigione. Io spero che la rappresentanza di Khartoum riconosca quanto istruttivo sia questo conflitto e dia una possibilità alla pace. Grazie Presidente. Abbiamo già sentito che negli scorsi tre anni il conflitto in sud Sudan ha, nel tutto, decine di miliardi di vite, 3 milioni di sfollati e donne violentate, bambini. Tutto questo deve finire. Abbiamo un embargo sulle armi, ma internazionalmente come possiamo farlo applicare? Le imprese ucraine sono impuni e continuano a vendere elicotteri da guerra sul Sudan. Non può rimanere impunito tutto questo. Questo conflitto è il risultato del fallimento nostro e di altri di investire nell'inclusività al momento dell'indipendenza, lasciando che le divisioni etniche fossero sfruttate da chi aveva sette di potere al suo interno. A metà del 2017 5 milioni di persone moriranno di fame nel paese. Abbiamo bisogno di un impegno internazionale per la sicurezza alimentare a lungo termine, per riaprire anche le rotte commerciali nella regione. Quali sono i passi, commissario, che stiamo facendo per avere l'implementazione dell'accordo di pace del 2015? Questo stiamo facendo per promuovere la coesione sociale viene interrotta. I bambini del Sud Sudan sono una generazione persa. Come possiamo conciliare? Aiuto allo sviluppo e responsabilità per i prossimi anni è interrotta. Onorevole Zeller, un minuto. Grazie, Presidente. Se anni fa c'ero quando la popolazione con grande gioia nel Sud Sudan ha festeggiato l'indipendenza con il referendum. Adesso questa indipendenza non ha portato pace a queste persone, né democrazia né benessere, perché coloro che sono competenti per guidare il paese hanno lanciato il paese in una guerra civile portando grandi sofferenze. Contemporaneamente però il Sud Sudan è anche un esempio del fallimento della comunità internazionale, né la comunità dell'Africa orientale, né l'Unione europea né le Nazioni unite, sono in grado ormai di porfine alle sofferenze alla morte nel Sud Sudan. È creatante che nel dicembre, su proposta degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza è stata presentata una richiesta per un embargo sulle armi contro il Sud Sudan. Questa proposta è fallita. Solo 7 dei 15 membri del Consiglio hanno votato a favore per questa proposta di risoluzione. 8 paesi, fra cui Russia e Cina, Colvetto e 3 a Senega, Angola e Egitto africani si sono astenuti e ci sarebbero voluti 9 voti a favore invece per farla passare. È una vergogna. Solo le sanzioni contro i responsabili funzionano per far porre fine alle morti in quel paese. Passiamo al CDI. Due richieste iscritte. Caputo. Grazie Presidente. La situazione in Sud Sudan è davvero drammatica. Si registrano violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani. Il Governo continua a reprimere le libertà fondamentali con arresti arbitrari di giornalisti e di leader politici. E alle violenze si aggiunge una drammatica carestia. Nel Sud Sudan, secondo quanto denunciano gli organismi dell'ONU, la FAO, l'UNICEF World Food Program, più di 30.000 persone rischiano di morire di fame e decine di migliaia sono le persone a rischio carestia. Se non si vuole che la situazione precipiti ulteriormente, è necessario che l'Europa e la comunità internazionale si mobilitino anche in collaborazione con l'Unione Africana per favorire la riconciliazione nazionale, per sostenere un processo di ricostruzione politica e istituzionale del Paese. È necessaria una transizione politica del Sudan verso forme di governo democratiche, transizione che potrebbe aiutare la popolazione sudanese e anche quella del Darfur ad uscire dall'attuale stato di sottosviluppo, di sofferenza e di morte. Grazie. Grazie Presidente. La crisi nel Sudan del Sud, fuori dal radar dell'attenzione della comunità internazionale. Dopo un periodo di relativa tranquillità, dopo la fine della guerra civile scoppiata nel dicembre 2013, adesso è saltato completamente il processo di pace e si è ritornati a una violenza che fa temere il genocidio. Migliaia e migliaia di persone hanno lasciato il paese, gli scontri si esacerbano e le violenze continuano dopo che è saltato il processo di pace e sono già in corso delle pulizie etniche, violenze sessuali di massa. e... e...